Quando si parla di TAV si parla spesso di compensazione, cioè i territori che le ospitano, la alta velocità, ovviamente spesso gli viene corrisposto sostanzialmente dei corrispettivi. È successo, o doveva succedere, insomma anche in Mugello che ha ospitato un'opera annosa, insomma il passaggio che è stato molto difficile e molto complicato dell'alta velocità qui nella nostra zona. E lì c'erano quei 31 milioni di euro ballerini sostanzialmente che da anni la politica chiede di poter riavere in qualche modo per rimetterli sul territorio. C'è qualcosa che sta cambiando in questo? Direi di sì, intanto va ricordato, lei giustamente ricordava, questi 31 milioni che risalgono addirittura agli anni 90, un impegno preso da Ferrovie con le amministrazioni locali. Poi questi 30 milioni, non abbiamo capito bene che fine abbiano fatto nel tempo, sono stati recuperati ora, si è tenuta una riunione proprio pochissimi giorni fa, Regione Toscana e Comuni interessati del Mugello. Ferrovie hanno postato un piano di lavoro che prevede l'utilizzo di questi 30 milioni tra Borgo San Lorenzo più o meno, fino a tutta la lunga asta della Faentina, verso la città, quindi verso Pontassieve. Quello che è stato chiesto è di mettere un'attenzione maggiore, oltre che nell'eliminazione dei passaggi a livello per velocizzare tutta l'asta ferroviaria, tutta la tratta, mettere una maggiore attenzione, quindi maggiori fondi più sul Mugello che non sulla Val di Sieve. L'impegno di Ferrovie è di rivedere questo piano di lavoro, questo piano economico, dovremmo rivederci quanto prima, però uno, i soldi sono stati recuperati, due, sono stati postati su opere vantaggiose per il Mugello.